la grandissima a Pesaro proprio in Coppa del Mondo presentandosi con veramente una ginnastica di livello e vediamo la piccolina Sofia Raffaele davvero la mini ginnastica la grandissima a Pesaro la grandissima a Pesaro la grandissima a Pesaro la grande promessa uscente dalla categoria junior ma ancora molto molto giovane grande talento questa ragazza a Pesaro